Quindicesima giornata di ritorno del campionato di Serie C Gold sabato alle 21 al Palace Porta Estra, quando si sfideranno Amescu alla Basca e Tarezzo e Gemma a Monte Catini. Dopo una settimana di stop per le festività pasquali, inizia così il rush finale della stagione dell'Amen, con la sfida alla Gemma che precede i play-off. Una sfida che non ha nulla da dire a livello di classifica, in quanto entrambe le squadre hanno la posizione acquisita, ma molto dal punto di vista del prestigio e del morale. Monte Catini è una squadra con tradizione, anche di Serie A e di roster attuale, è stato costruito per cercare di tornare in Serie B, affidando la panchina ad un coach esperto come Del Re e con in campo tanti giocatori di qualità. Tra questi spicca anche il valvernese Lorenzo Neri, cresciuto nelle giovanili del Terra Nuova Basket e passato anche per la Serie A. L'Amen, di coach evangelistiche, con una splendida cavalcata nel girone di ritorno, si è conquistata la quinta posizione e a reduce da otto vittorie di fila ed è la ricerca di un successo di prestigio per acquisire ancora maggiore autostima in vista del post-season. Per provare ad invertire il pronostico della partita, servirà anche l'appoggio del Palla Sportestra in questo antipasto dei play-off. La Palla 2 è prevista alle 21 in contemporanea con tutte le altre partite di questa giornata.